Ora mangia, è buono! Lo sguardo vale mille punti! Mangia! Natto! Natto! Aspetta, devo preparare perché... C'è stata la prima... Tre o quattro. Ora lo mangio e ora lascio lì. Lontano ti uccidete e non uccidete. Ecco, guarda la faccia. Guarda la faccia, guarda la faccia. Guarda la faccia, guarda la faccia. Devi cercare qualcosa, ecco come me. Devi cercare qualcos'altro che per a tutti... Lo svetto, anche se... Io ho detto, lo svetto serve a cui... Fa schifo, eh? E' un circolo vizioso, ci prendono il natto e lo svetto. Però fa bene! Non mi potrete mangiare! Però dovresti farti... Ma ma già, è giapponese! Dove si farti del male assaggiarlo anche. Se almeno dovresti, cioè, se sei un vero compagno... Lo mangi? No, vai! Dai, dai, dai! E sono fagioli per dolore! Non è piccante! Assaggialo! No, lo voglio! Lo vuoi tu? No! Potrei mangiare un altro allora, è colpa tua! Non sei coraggioso! E no, è una scena da fare! Lo devi mangiare! Mangiati il secondo, vai, vai! Mangiamo il secondo! Io lo mangio il secondo! E... E' solo... Un po' amaro! Però non è piccante! E' un po' amaro, però non è piccante! E' un po' amaro! Sono uscito... Un po' amaro! E' un po' amaro! E' un po' amaro! E' una scena! Non vattene quello che anche i giapponesi molto non lo mancano! Invece io sì grazie, siete stati molto gentili, vi ringrazio Maria, che succede? Scusate, mamma mia E' impossibile da mangiare La seconda volta è già uscito a carburato Eppure c'è l'odore di formaggio a piedi Niente, purtroppo dobbiamo andare via Mi ha contato